parte, ma andremo a capire man mano che arriveremo vicino alla fase 2, quanto è importante un city coordinator o un team coordinator che hanno addirittura la possibilità di guadagnare il 4-5% in più, perché concentrano le proprie forze, ad esempio mi viene in mente la zona dove sei tu Albi, se una persona riesce a creare insieme ad altri, non da soli, una bella rete di negozi e di persone affiliate e di persone che possiedono la carta, ebbene sì, in un'area di 100.000 abitanti Flexcom ha pensato di avere anche un city coordinator, quindi questo city coordinator, io mi auguro che tu sia city coordinator Alberto, prenderà un 5% in più di tutto ciò che viene, oltre alla sua rete, oltre ai suoi negozi, tutto ciò che verrà sviluppato in quell'area specifica, quindi per tutti coloro che sono in sala, che stanno pensando a Flexcom o sono già parte di Flexcom, concentrarsi in una zona specifica anziché disperdere le proprie energie potrebbe essere addirittura un ulteriore vantaggio. Qua abbiamo il terminale, quindi questo è il terminale Flexcom, molto leggero, probabilmente cambierà, io ho visto foto di come era l'anno scorso, di come era due anni fa, due anni fa era addirittura bianco, adesso invece è questo grigio, molto leggero, io ho avuto la possibilità e adesso sabato, sabato addirittura le avremo in Olanda, sabato verrà fatto il lancio, l'apertura ufficiale, il kick off, così è chiamato, kick off, verranno distribuiti i primi 30 POS terminali per testare che tutto funzioni, le commissioni circolano, lo scopo, lo scopo, il conto venga messo sulle carte, eccetera, sono 30 punti strategici dove poi tutti noi potremo andare e sarà ovviamente un piacere fare foto, vedere la funzionalità, come funziona, quanto è veloce, quanto ci mette a darmi il mio sconto sulla carta, eccetera, eccetera.